e torniamo in diretta da Versa la seconda corsa il premio Matilde Serà una prova per femmine di tre anni sulla distanza del miglio in prima fila Energy Games e sto i loca dal Hermana Jet, Eugenia Griff Enea degli Ulivi ed Eneide seconda fila per Elodin Eneide Caff, Easter Lake Ederaban, Edda e Epica Abi terza fila per Enna Jet problemi in fase di allineamento per Edda, parte arretrata Epica Abi chiusura delle ali Eugenia Griff la più sollecita la rottura di Enea degli Ulivi in seconda posizione Energy Games davanti ad Eneide c'è la rottura di Eugenia Griff che lascia Energy Games al comando 15.8 i duecenti iniziali Energy Games precede Hermana Jet in terza posizione Eneide poi è sto i loca dal Easter Lake a precedere Elodin tiene buon ritmo la leader percorre il quarto iniziale in 38 seguita ad una lunghezza da Hermana Jet poi Eneide a largo ammosso Estoi lo ca dal notevoli i seicento in 44.8 la Nadal Sheba di Cimmino fa selezione ha sbagliato anche Estoi lo ca dal primo giro completato in un minuto e sette decimi Energy Games Hermana Jet Eneide Easter Lake e Elodin così a seicento dalla conclusione 16.5 il chilometro adesso Hermana Jet avvicina Energy Games che poi riparte Easter Lake va in aggiramento su Eneide che è richiesta prova a carburare Elodin tre quarti di miglio in 1.32 inavvicinabile fino a questo momento Energy Games adesso ci prova Hermana Jet e arriva bene Easter Lake retta d'arrivo Energy Games ha respinto Hermana Jet arriva però Easter Lake che è incisiva Easter Lake va su Energy Games che si difende alla grande Energy Games a sorpresa ma non troppo va a vincere da un capo all'altro l'allieva di Luigi Cimmino nasce da Nadal Scebe e Maratea S buona genealogia oggi fa percorso netto e porta a casa il successo per i colori dello stesso Luigi Cimmino e il training di Luigi Loreto media che dovrebbe aggirarsi intorno all'uno sedici e mezzo per la vincitrice Energy Games al secondo la regolare Easter Lake che precede la rientrante Hermana Jet 193 l'arrivo probabile ed ufficioso l'arrivo in